Tu sei un grande, sei il più grande, sei un genio! Io sono un tuo fan accanito da sempre! YouTube, Facebook, il sito, i filmati, il cinema... Tu come fai ad essere ancora qui? Dovresti essere a Hollywood! Oh, e poi quello della campanella... E poi... Oh, questo qui! Quello della bollente! Sparisce! Fammi un autografo che poi diventi famoso e quando sarai famoso io dirò Oh, l'autografone! Senti, io avrei bisogno di un videospot di 180 minuti emozionale, motivazionale girato in 4K, magari un po' di 3D e ci mettiamo dentro un po' di effettucci, tu hai quelli di effettucci Quello, sì, quello che vola, esplosioni, sparizioni, apparizioni... Mi raccomando, quelle cose lì, importantissime che devono essere viste da tutti Fa curriculum! Poi, sei bravo tu! Intanto quanto ci metti? Ti piace? A me piace! Vedi, signor Volpi, possiamo fare un preventivo? 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 Ah... Preventivo? Preventivo? Ehm, no... Ehm... Diciamo che... Questo è... Più... Un progetto... ZERO BUDGET! Ah! ZERO BUDGET, eh? Perché, scusa? Ehm... Tu pensavi... Di essere pagato? Oddio! E no, perché... Il mio cugino... Lo farebbe gratis! Gratis? Eh, certo! Ma perché non vai da lui? No, 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 ma lui lo fa per hobby Poi ha un lavoro Fa cose più importanti Sei tu che ci metti la passione Fa una piega Però... Sai cosa ti dico? Io ti offro molto di più Io ti offro un'occasione La visibilità Like a flame that burns a candle A candle feeds the flame With theıkt $3 Full stock A force dreams that scatter And you pull them all together Thanks a lot